La statistica al servizio dei governi territoriali. Quali sono le sue valutazioni al riguardo per il Comune di Roma? Allora sì, è al servizio dei governi territoriali, al servizio delle amministrazioni e al servizio dei cittadini. Nel senso che la statistica che cosa genera? Dati. I dati si possono e si devono leggere. Quello che possono fare gli enti territoriali come il Comune, ma Roma che ha un po' di complessità, è renderli fruibili e leggibili. Ad esempio Roma ha fatto il primo rapporto BES, ovvero benessere equi sostenibile, ovviamente con Istat. L'abbiamo fatto insieme e dei loro 125-129 indicatori ne abbiamo adottati, 75, ma stiamo lavorando anche sugli altri, proprio perché per rendere comprensibile al cittadino come stiamo lavorando, per capire noi come possiamo migliorare il nostro lavoro. Quindi i dati per un confronto, trasparenza, partecipazione al cittadino, a noi per riuscire a fare meglio il nostro lavoro. Grazie.